buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog oggi è le 7 e 47 ed è il 14 agosto io non so quando vedrete questo log però ho deciso di farlo perché comunque ho detto vabbè per fare un voto e niente non si capisce niente faccio un blog chiacchiericcio comunque stamattina tengo fame perché ieri ho fatto per un altro vlog ho mangiato il pancake salato e ma do troppo buono infatti oggi stavo col telefonino in mano mi sono svegliata alle 6 di stamattina e mezza e mi sono messo un po sul sito di all supplement per vedere un po e stavano anche alcuni sconti quindi adesso sicuramente farò l'ordine lì perché così mi prendo la farina perché sul sito di mg non c'è e poi oggi ho detto vabbè è un blog così sarà un blog è un bottine dei da fit ha fatto perché stasera si sgarra quindi voglio portarvi con me perché non abbiamo portato un bottine dei così e ma ci sta perché oggi il 14 agosto domani il 15 agosto quindi sarà un po così era un po particolare ho detto ma sì dai portiamo questo contenuto anche sul canale perché di solito facevo solo challenge di fat invece non va bene e quindi stamattina proverò a fare insieme a voi una ricetta cioè i pancake vegani che adesso mi alzo vado a preparare tutto e vi faccio vedere la colazione come sempre tutte le mattine prendo i miei soliti integratori cioè omega 3 iniziamo l'appoggiamo qui poi dopo mangiato prendo hair skin e nails mi sto trovando bene e poi anche un multivitaminico ecco il retroscena dei video cioè guardatevi che casino c'è adesso sta tutto fuori vado a farmi la colazione vi faccio vedere la ricetta bomba a farmi la colazione vi faccio vedere la ricetta bomba a farmi la colazione vi faccio vedere la ricetta bomba a farmi la colazione vi faccio vedere la ricetta bomba attraga cioè guardatevi che evitare la ricetta bomba a farmi la colazione oh Musica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.